Cari ragazzi siamo qui in un nuovo video e siamo qui pronti per fare un tutorial Come sapete uno dei miei youtube preferiti chiamato Surreal Power che forse tutti conosceranno ha fatto come serie la Wild West Warrior Ebbene forse non ci crederete ma anche io avevo deciso di farla, di proporla sul canale Il problema è che il mio pc non la reggeva perchè era una mappa troppo pesante Vabbè non importa però cosa vi porterò in questo video? In questo video vi porterò come scaricare la Wild West Warrior ossia la mappa che fa Surreal Power Allora molto molto easy dovete andare nel link in descrizione Scaricarla tranquilli ci mettete 2 nanosecondi Dopo che l'avete scaricata cosa fate? La prendete, la mettete sul desktop e tramite %updata% se no fate, aprite la cartella delle texture andate in saves e la trascinate dentro dai download O dal desktop Una volta fatto la aprite, se avete un wirrar, se non avete un wirrar dovete scaricarvelo Una volta aperta, voi cosa fate? Trascinate il file dentro e cancellate l'archivio un wirrar Poi chiudete tutto, aprite Minecraft nella versione giusta Che è la 1.8 mi sembra si E seguite le varie istruzioni che vi lascerò nei link in descrizione Quindi cosa c'è di più semplice di questo? Scaricare una bella mappa per giocare come il vostro youtuber preferito Quindi noi ci becchiamo in un prossimo video Ciao Ciao